Assessore, a dieci giorni dalle riaperture c'era un po' di timore all'inizio per come potevano reagire i dati della pandemia, è una situazione che tutto sommato possiamo dire è abbastanza tranquilla o comunque non è allarmante tutt'altro. I timori devo dire che sono sempre presenti, i timori servono perché tengono alta poi l'attenzione e soprattutto quella vigilanza sanitaria di cui c'è bisogno costantemente. Non abbiamo dati allarmanti, tutt'altro, scendono i ricoveri, scendono i positivi, stiamo monitorando in maniera molto selettiva tutta l'attività scolastica perché temiamo sempre che ci possano essere dei focolai nell'ambito scolastico ed è proprio per questo che attraverso una delibera ieri abbiamo messo in atto una convenzione con le farmacie per portare avanti attraverso i tamponi antigenici un monitoraggio per tutto il gruppo scolastico in modo particolare per gli studenti. Io mi auguro che ci sia subito questa possibilità almeno di aprire fino alle 23 perché non è un'ora che cambia la situazione, l'importante è rispettare sempre quelle che sono le regole di distanziamento ma devo dire che nella nostra regione anche nei periodi, nei giorni in cui c'è stato un maggiore afflusso non ci sono stati episodi eclatanti. Come avete visto nell'ultima settimana siamo stati in grado di recuperare quel gap che c'era stato all'inizio abbiamo una possibilità di vaccinare medialmente 10-11 mila persone per arrivare a breve anche a 15 mila abbiamo vaccinato una percentuale alta della popolazione target e il nostro auspicio è di poter arrivare come già detto a un'immunità a fine settembre ma soprattutto una volta finita questa popolazione target poter dare la possibilità a tutti gli abruzzesi di essere vaccinati partendo anche dalle aziende che è una richiesta che io inoltrerò proprio al commissario venerdì viene Figliolo, visiterà i due centri hub dell'Aquila e di Pescara ma soprattutto verificherà quelli che sono i nostri dati nella nostra regione è una visita importante perché ci sarà anche un confronto in base anche alle istanze che noi porteremo avanti. grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti